PwC anche quest'anno partecipa alle iniziative promosse da Click Utility nel settore della mobilità e dell'innovazione e dell'evoluzione di questo settore. Come PwC noi riteniamo molto importante dialogare con gli attori del settore sia pubblici che privati per veicolare un po' la nostra visione che è quella che questa evoluzione nasce dall'evoluzione dei comportamenti degli utenti della mobilità, dalle loro mutate esigenze ancora più forti adesso nella fase post-Covid per poi arrivare alle soluzioni tecnologiche come fattore abilitante e non come fattore diciamo trascinante dell'evoluzione. Da questo punto di vista i temi che abbiamo scelto quest'anno di toccare riguardano da un lato l'elettrificazione del TPL e poi attraverso l'intervento di un altro collega l'evoluzione generale del settore automotive e delle operazioni che avvengono in questo ambito che sono anche collegate all'evoluzione stessa della mobilità. Per quanto riguarda il primo aspetto su cui mi soffermerò è un momento molto importante. Il trasporto pubblico locale vive una fase difficile nel post-Covid c'è stata una riduzione significativa degli spostamenti legata alle restrizioni che ci sono state ma anche al mutamento dell'organizzazione della vita delle persone con la remotizzazione di molte attività. E' un cambiamento che potrebbe anche avere un effetto strutturale. Nello stesso tempo c'è una forte spinta nel rilanciare il TPL per avere una soluzione integralmente sostenibile. La Commissione europea sta promuovendo una strategia di neutralità delle città dal punto di vista delle emissioni di CO2 e quindi questa strategia non può essere perseguita soltanto realizzando nuove metropolitane e linee tranviarie che richiedono tempo e investimenti importanti anche se sono certamente cose da fare. Ma bisogna anche pensare a una sostenibilità maggiore del trasporto pubblico locale su gomma che nel nostro paese realizza più del 60% degli spostamenti delle persone in ambito urbano e a livello dell'Unione europea il 56%. Occorre quindi fare una transizione green della flotta dei veicoli di bus e questa deve avvenire privilegiando le tecnologie totalmente green come l'elettrico e in prospettiva l'idrogeno. Anche il PNRR mette delle risorse in questa direzione ma naturalmente non è banale passare per gli operatori da una operation totalmente focalizzata su veicoli diesel o a metano. Devono conoscere nuove tecnologie, le sue specificità sia di finanziamento ma anche gestionali. C'è tutto il tema del ciclo della batteria che non è banale, c'è il tema delle infrastrutture di ricarica oltre naturalmente della scelta dei veicoli più adatti secondo il profilo di missione delle linee che loro hanno. E quindi parleremo proprio di questi fattori abilitanti e di come superare gli eventuali ostacoli per realizzare nel tempo più rapido possibile questa transizione.